In piedi! La giuria ha raggiunto un verdetto? Sì, signore. Vice caporale Dawson, soldato scelto Dauni. Per l'accusa di omicidio, la giuria ritiene gli imputati non colpevoli. Per l'accusa di associazione a delinquere al fine di commettere l'omicidio, la giuria ritiene gli imputati non colpevoli. Per l'accusa di condotta disdicevole per un marino degli Stati Uniti, la giuria ritiene gli imputati colpevoli secondo l'accusa. Gli imputati sono pertanto condannati alla pena detentiva che hanno già scontato e se ne ordina il congedo immediato con disonore dal corpo dei Marines. Questa corte marziale è aggiornata. In piedi! Che voleva dire? Al! Che significa? Io non riesco a capire. Il colonnello ha detto ad aver dato lui l'ordine. Lo so, però... Il colonnello ha detto ad aver dato lui l'ordine. Noi che abbiamo fatto di male. Non è così semplice. Noi che abbiamo fatto, non abbiamo fatto niente di male! Sì, invece. Era nostro dovere batterci per le persone che non possono difendersi da sole. Era nostro dovere batterci per Willy. Tenente Caffi, devo accompagnare questi uomini all'ufficio personale per le pratiche. Harold? Signore? Non serve una mostrina per essere un uomo d'onore. Attenti! Ufficiale in coperta. Avieri, Sisi, Lomalli e Anthony Rodriguez. Ma esattamente questi ragazzi che cosa dovevano depurre? Se non vado errato, avrebbero dovuto entrambi testimoniare sotto giuramento che non ricordavano assolutamente un bel niente di niente. Testimoni fondamentali. E anche decorativi, non ti pare? Ci vediamo in giro per le aule. Io devo andare ad arrestare Kendrick. Porta lì i miei saluti. Agli ordini. Ma esattamente, non ti pare. 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 Grazie a tutti.